Chiedono a Dio un aiuto. Ed è ciò che ho cercato di fare. Aiutare le persone. Mi stavo prendendo in giro. L'oscurità risponde solo all'oscurità. Sono Tardevil. Io ho commesso un bel po' di sbagli. Però accetto la pena che sto scontando per quegli sbagli. Magari la prigione mi ha cambiato. Cosa vuole dire? Voglio proporle un accordo.